59 candeline spente appena 15 giorni fa e quella meta sempre più vicina. Tra qualche mese la pensione, Mario Di Conso è morto nell'impatto violentissimo del treno alta velocità partito da Milano e diretto a Salerno. Era un macchinista esperto come un fratello che vive a Piacenza, uno dei primi a guidare i Frecciarossa, ad addestrare i più giovani. Aveva sempre una parola di conforto per tutti, dicono ora i colleghi. Era un gran lavoratore. Dalla sua terra d'origine, la Campania, aveva portato l'allegria contagiosa, l'affabilità. Viveva con la moglie e il figlio nel milanese a Pioltello, dove, per una tragica casualità, due anni fa deragli un regionale provocando tre morti. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Dal sud arrivava anche Giuseppe Cicciu. 51 anni, si era risposato da poco e aveva avuto una bambina. Delegato sindacale, alle scorse elezioni non si era ricandidato proprio per stare vicino alla piccolina. Innamorato dei treni della sua azienda, su Facebook amava postare foto di stazioni. La divisa, quasi una seconda pelle. Tra le sue battaglie, tutti ricordano quella sulla sicurezza e sui carichi di lavoro. Grazie.